Qual è il profitto di un'azienda per ogni unità in più di merce venduta? Qual è la velocità media di un corpo che percorre 10 metri in 4 secondi? E qual è la sua posizione all'istante zero? Sono esempi di due domande più generali. Qual è la pendenza e qual è l'intercetta, cioè l'output corrispondente all'input zero di una funzione lineare. Le funzioni lineari sono univocamente determinate dalla conoscenza di due sole informazioni. Per esempio, la conoscenza di due coppie di valori input-output, oppure, come vedremo in questa lezione, la conoscenza della pendenza e dell'intercetta. Tieni presente che quello di pendenza di una funzione lineare è uno dei concetti più importanti per il prosieguo dei tuoi studi. Osserva la curva in blu. È il grafico di una funzione y uguale a f di x nell'intervallo che va da 0 a 4. Notiamo anche che per x uguale a 0 la funzione vale 1, per x uguale a 4 vale 3. Diremo che la pendenza media della funzione nell'intervallo 0,4 è il rapporto fra la variazione degli output, cioè f di 4 meno f di 0, che indichiamo con delta y, e la variazione degli input, cioè 4 meno 0, indicata con delta x. Quindi la pendenza media della nostra funzione nell'intervallo 0,4 è un mezzo, che è la pendenza della funzione lineare passante per i punti di coordinate 0,1 e 4,3. Le funzioni lineari sono le uniche funzioni che hanno pendenza media costante su ogni intervallo. In altre parole, la pendenza media delle funzioni lineari non dipende dall'intervallo su cui la calcoliamo. Qualunque sia l'intervallo delta x preso in considerazione, la pendenza media delta y fratto delta x è sempre la stessa. Nella lezione dimostreremo questo fatto. Di conseguenza, però, per le funzioni lineari, potremo parlare semplicemente di pendenza. La pendenza di una funzione lineare ha una interessante interpretazione grafica. Data una funzione lineare, si considera un punto A del suo grafico, e poi il punto B, che si ottiene aumentando di 1 la scissa di A. La differenza fra le ordinate di B e di A è uguale alla pendenza della funzione. Per esempio, in questo grafico, se aumentiamo di 1 la scissa del punto di coordinate 0,1, per raggiungere il punto sulla retta con la scissa 1, dobbiamo scendere di 3 nella direzione dell'asse y. Quindi la pendenza è meno 3, dove il segno meno indica che all'aumentare delle x le y diminuiscono. In quest'altro grafico, se aumentiamo di 1 la scissa del punto di coordinate 0, meno 3, dobbiamo salire di 2 nella direzione dell'asse y. Quindi la pendenza è più 2. Il segno più indica che all'aumentare delle x le y aumentano. L'intercetta di una funzione è l'output che ha come input 0, cioè f di 0. In questo esempio, l'intercetta è 2. Infatti, per x uguale a 0, la funzione assume il valore 2. In altre parole, dal punto di vista grafico, l'intercetta è l'ordinata del punto del grafico che ha scissa 0. Per prepararti alla lezione numero 10, prova ad affrontare il problema di apertura dal titolo Come varia la lunghezza di una molla al variare del peso a esse applicato? E svolgi le prime tre schede con attività in GeoGebra che compaiono nella sezione Strumenti di lavoro. Buon lavoro!